ciao amici oggi condivido con voi un trucchetto per dimagrire che vi lascerà a bocca aperta hai scoperto la pillola che si mangia il grasso quella non esiste sto parlando del magnesio un minerale che anche tantissimi altri benefici se volete conoscerli tutti mettete subito un bel mi piace questo video tanti mi piace tanti nuovi video vediamoli insieme 1 energia per dimagrire serve energia perché il metabolismo deve rimanere attivo e anche perché bisogna fare almeno un po di attività fisica che fatica per fortuna ci aiuta il magnesio aiuta il corpo a produrre energia regola la glicemia e favorisce uno stato attivo e vitale quindi il buon umore necessario per dimagrire 2 dormire bene diversi studi medici hanno dimostrato che la carenza di sonno fa ingrassare il magnesio aiuta a combattere l'insonnia e riduce il cortisolo l'ormone dello stress che è tra i responsabili dei disturbi notturni 3 insulino resistenza mica o il diabete l'insulina la produciamo tutti spesso quando non si riesce a dimagrire è per l'insulino resistenza cioè quando le cellule non reagiscono all'insulina necessaria per abbassare gli zuccheri nel sangue il corpo non brucia le riserve di adipe perché ci sono sempre gli zuccheri nel sangue uno studio del 2013 ha dimostrato che il magnesio riduce questa condizione e attenua quella che viene chiamata sindrome metabolica 4 salute generale basta prendere un libro di chimica o fisiologia per scoprire che il magnesio è utilizzato dal corpo in oltre 300 reazioni chimiche quindi meglio non farselo mai mancare avere un corpo sano e depurato è la base essenziale per poter dimagrire per vedere tutti gli altri video con i miei consigli su come dimagrire naturalmente basta iscriversi al canale è facile con un clic così e attivate tutte le notifiche cliccando sulla campanella delle notifiche qui sotto mangia sano e dimagrisci diventa anche tu trendy e sano con simona vignali eventi live vacanze wellness scuola di naturopatia consulenze di salute naturale libri ed ebook per il tuo benessere info in descrizione ogni giorno sempre più trendy e sani con simona vignali naturalmente ciao